ritorniamo a parlare di guild of guardians un gioco che ha continuato il suo sviluppo nonostante le grandissime difficoltà ahimè degli sviluppatori perché gran parte degli sviluppatori era situato in ucraina inizialmente sviluppato come se fosse un diablo like anche se ultimamente ci sono stati dei cambiamenti per renderlo più strategico ma perché vi sto facendo un video su guild of guardians chi si pre registra otterrà 10 guardiani gratis lo sviluppo del gioco sta andando avanti grazie a dio e il gioco promette davvero davvero bene come si fa ad ottenere queste 10 summon gratuite basta cliccare qui su pre registra e vi apparirà la schermata di pre registrazione che cos'è questa schermata? semplicemente essendo guild of guardians un gioco che si basa su immutable x vi basta collegarvi col vostro immutable passport per farlo è semplicissimo vi basta andare su immutable.com nella zona passport dove potrete appunto fare il sign up che cosa vi serve? vi basta un wallet se già giocate ad esempio a gods and chained non avrete problemi ma se siete nuovi di questa piattaforma quello che vi basta fare è andare su questo sito fare il sign up collegare una mail con un wallet di metamask su chain ethereum questo vi permetterà questo vi permetterà poi di logare direttamente col passport cosa fighissima non solo su guild of guardians ma anche su tutti i giochi che si basano su immutable x quindi tanta roba per fare questa registrazione vi basta fare appunto questo cliccate vi fate il sign up su immutable passport dopo di che ci collegate un wallet il gioco è fatto il giorno in cui verrà pubblicata l'open beta del gioco riceverete anche questi 10 drop gratuiti attenzione però perché queste 10 summons non sono nft ma da gioco si potranno forgiare gli nft mintare gli nft fondendo i vari guardiani poi all'uscita del gioco vi farò vedere una guida più dettagliata è possibile comprare direttamente invece i personaggi nft quindi non da mintare ma già mintati su immutable x il marketplace di immutable x semplicissimo anzi si sono pure abbassati i prezzi perché dopo la guerra il progetto ha tentennato un pochino e quindi rispetto all'inizio adesso è possibile comprare in maniera molto più economica gli nft comunque a prescindere non bisogna spendere nulla per guadagnare su questo gioco si può giocare in maniera totalmente gratuita senza investire niente chiaramente le persone che investiranno su personaggi più rari leggendari e via dicendo andranno più avanti nei quadri e avranno più possibilità di guadagnare il token nativo vi ricorda qua il gioco che qualsiasi cosa che ottenete in gioco è di vostro possesso e quindi potrà essere rivenduta anche sul mercato appunto per comprare altre cose che ci possono essere più utili per proseguire nel gioco oppure per guadagnare direttamente cripto andatevi a vedere un po' tutti gli sviluppi adesso stanno facendo un transfer sia del token che di tutti gli nft asset che sarà automatico in caso tu abbia appunto l'immutable passport su zk ibm che è praticamente un layer 2 quindi molto più veloce molto molto meno dispendioso e via dicendo avete il white paper tra le tante aggiornato che vi potete andare a vedere giocato la demo ci hanno anche ricompensato con dei GOG che sarebbe il token nativo del gioco quindi andatevelo a vedere io qui adesso vi posso far vedere una piccola preview super interessante come progetto in più ragazzi la pre-registrazione non vi costa niente è tutto assolutamente gratuito quindi a prescindere vi conviene farla e quindi ricevere le 10 summon attenzione per le 10 summon sarà comunque necessario giocare il primo mese dopo l'annuncio appunto del gioco che verrà aperto a tutti quindi l'importante sarà poi giocare al gioco per ricevere queste 10 summon credo che sia una buona occasione per ricevere qualcosa di gratuito su un gioco dove magari se siamo fortunati potremmo fondere tra queste 10 summon alcune summon per creare degli nft e rivendere al mercato se non siamo interessati a giocare detto questo vi saluto un brevissimo video e al prossimo grazie